E allora questa mattina parliamo di sicurezza, un bene assoluto per tutti ma soprattutto per gli anziani. Sicurezza che troppo spesso viene messa a repentaglio dall'azione di malfattori senza scrupoli che approfittano della loro buona fede. Purtroppo un fenomeno in continua crescita, vogliamo questa mattina parlarne ma soprattutto avere dei consigli, degli strumenti per prevenirle con il dottor Antonio Pio Biceglia, funzionario addetto Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Polizia di Stato. Buongiorno dottor Biceglia, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Allora partiamo dalla domanda d'obbligo, quali sono le truffe più comuni in cui gli anziani cadono vittime? Dunque per quanto riguarda le truffe più comuni in questo periodo si sono registrate qui nella provincia di Foggia numerosi episodi in cui gente si fingeva appartenente a denti pubblici, quali ad esempio l'Enel e l'Inps, quindi si recava presso le case degli anziani chiedendo di poter visionare il contatore piuttosto che riscuotere somme di denaro, spacciandosi appunto per funzionari pubblici e quindi avvicinando persone anziane. Oppure altre truffe spesso poste in essere riguardano soggetti che si spacciano ad esempio per nipoti o parenti di queste persone malcapitate chiedendo magari somme di denaro perché coinvolte in incidenti oppure poiché hanno subito delle contravvenzioni quindi tendono a chiedere somme ai propri parenti che purtroppo cadono in queste trappole, in questi tranelli. Quindi queste sono più che altro le modalità poste in essere da questi malfattori. Dottor Biceglia vorrei chiederle come riconoscere una truffa? Ci sono delle parole chiave, dei comportamenti che possono aiutare i nostri anziani ad accendere il campanello d'allarme? Allora sicuramente quando può capitare che l'anziano venga contattato telefonicamente. A proposito di questo c'è da dire che quando un ente pubblico ha bisogno di riscuotere somme di denaro si pensi ad una banca sicuramente non manda soggetti presso le abitazioni ma appunto si viene contattati direttamente dalla banca attraverso il proprio consulente personale. Quindi sicuramente un primo campanello d'allarme è la telefonata o il soggetto che si presenta alla porta. Altra modalità che può destare sospetto è l'invio di messaggi. Quindi bisogna segnalare sicuramente il fatto che nessun ente pubblico invia messaggi dove richiede l'erogazione di somme di denaro. Oppure bisogna stare attenti quando appunto questi soggetti hanno modi di fare abbastanza affabili ma non sono specifici nel dire a quale istituto appartengono. Rimangono sempre in maniera diciamo in questo ambito aleatorio ma hanno modi affabili. Quindi il consiglio è sempre quello di invitare gli anziani ogni qualvolta abbiano un sospetto ad avvisare il 113 che è il numero nostro di emergenza. Questi sono diciamo i campanelli d'allarme posti ai quali bisogna dare più attenzione. Dottor Bicegna, resti collegato con noi, le chiediamo ancora qualche minuto di pazienza e di disponibilità anche perché poi le faremo un'altra domanda importante. Quindi chiediamo a chi ci sta seguendo di ascoltare con attenzione perché le chiederemo proprio come fare per difendersi perché è possibile farlo, è possibile difendersi. Noi ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e poi di nuovo insieme. Si fingono parenti, banche, enti per ricevere soldi in denaro per truffare gli anziani. Siamo collegati questa mattina con il dottor Antonio Pio Bicegna, funzionario della Polizia di Stato. Allora, come fare per difendersi, dottor Bicegna? Sì, allora, innanzitutto bisogna rappresentare ai parenti quali sono i possibili reaggiri. Quindi si fa un appello ai familiari di star vicino ai propri familiari più anziani proprio perché queste truffe vengono poste in essere soprattutto nel periodo estivo quando le città si svuotano e quindi quando le persone più anziane restano presumibilmente più sole. Quindi sicuramente informare i propri familiari di quali possano essere i possibili raggiri, invitare i soggetti anziani a non aprire casa agli sconosciuti e soprattutto avvisare il 113 ogni qual volta possano notare persone sconosciute alla porta o comunque soggetti non conosciuti che possano avvicinarli. Un altro consiglio è quello di accompagnare i parenti laddove debbano riscuotere presso banche piuttosto che poste, somme di denaro e quindi non lasciarli soli. E soprattutto nel momento in cui dovessero appunto notare questi campanelli di allarme avvisare immediatamente il 113 dal momento che la Polizia di Stato è sempre molto attenta a queste vicende. E allora dottor Biceglia per chiudere l'argomento cosa possiamo fare noi come figli, come nipoti, come parenti degli anziani per tutelare i nostri cari? Quali comportamenti dobbiamo adottare? Sicuramente cercare di non lasciarli soli. Questa è la prima cosa. La vicinanza, informarli costantemente, metterli in guardia. Magari se un familiare, non so, figli, vanno in vacanza avvisare il vicino di casa, avvisare qualche altro parente che resta in città per appunto non mettere un occhio di riguardo in più per il proprio familiare solo. Quindi questo è il consiglio principale. E come dicevo poc'anzi, avvisare immediatamente il 113 che invierà una volante sul posto ogni qualvolta si dovesse verificare una di queste situazioni. Bene, grazie. Grazie al dottor Antonio Pio Biceglia, funzionario addetto dell'Ufficio Prevenzione e Generale Soccorso Pubblico e della Polizia di Stato per questi preziosi consigli. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro soprattutto. Grazie e buona giornata a voi.